Negli ultimi cinque anni in Toscana i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni sono diminuiti, passando da 86.000 a 76.000. Il dato fa parte della pubblicazione Uno sguardo sui servizi educativi messa a punto dall'Osservatorio regionale Educazione e Istruzione e presentata a Palazzo Strozi Sacrati. La pubblicazione offre i dati statistici più aggiornati sui servizi per la prima infanzia ed è consultabile online con metodi innovativi di visualizzazione interattiva dei dati. Un sistema di servizi che sta continuando a crescere in termini di percentuale di bambini da 0 a 3 anni che frequentano i nidi, i nidi domiciliari, insomma tutti i tipi di servizi, ma che continua a crescere perché qui c'è una forte attenzione di regione toscana anche in qualità. Quindi noi abbiamo un sistema di governance che coinvolge i territori attraverso le zone educative e che garantisce degli standard minimi di qualità regionali a cui devono attenersi con una sticella anche molto alta tutti i servizi accreditati dalla regione toscana. In Toscana la percentuale di bambini fra i tre mesi e i tre anni che usufruiscono dei servizi educativi è il 36,8% del totale, media superiore a quella italiana e anche al 33% indicato come obiettivo dall'Agenda di Lisbona, sottoscritta dai capi di Stato dell'Unione Europea nel 2000. Il tipo di servizio più utilizzato è l'asilo nido.